Questa conferenza l'abbiamo organizzata per cercare di capire e far capire che cosa si muove intorno alla riscenda piattaforma Europa. Al di là delle perplessità sul piano economico finanziario, quanti soldi mette lo Stato, quanti soldi dovrà mettere il privato, quanti la regione, come, a quali condizioni, c'è anche il ridicolo balletto dei fondali, quello è veramente una cosa incomprensibile, si parla di 16, qualcuno parla di 18, Ceccarelli e addirittura i rossi parlano di 20 e minacciano di togliere i finanziamenti se non si arriva a quota 20, insomma è un qualcosa che veramente è incomprensibile e bisogna far chiarezza su questa vicenda.